Dopo un anno di attesa grazie all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Tino Iannuzzi, il governo ha reso note le cifre emerse dalla valutazione parametrica di RFI sul ripristino della ferrovia siciliano Lago Negro. Si tratta dell'ennesima anomalia con tanti punti contestabili. L'importo monterebbe adesso a circa 370 milioni di euro, cifra diversa sia rispetto ai costi del 2006 della regione Campania, che variavano dai 365 ai 635 milioni, che ha i 51 milioni del 1999 di ferrovie dello Stato. Inoltre RFI al termine dello studio avrebbe dichiarato che non è dunque ipotizzabile un servizio su ferro dai tempi e dai costi convenienti. L'atteggiamento è alquanto ambiguo, afferma in un comunicato stampa il Comitato di riattivazione della ferrovia siciliano Lago Negro. Perché non è professionale, continuano i membri del Comitato nella nota stampa, esprimere giudizia addirittura andando contro i propri interessi economici. RFI in qualità di gestore dell'infrastruttura non dovrebbe esprimere giudizi in merito allo studio di fattibilità, in quanto l'analisi e la valutazione di fattibilità degli investimenti pubblici spetta al nucleo di valutazione e verifica del Ministero dei Trasporti. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, continuano i membri del Comitato Moretti, ci aveva assicurato nell'incontro, avuto il 12 aprile 2013, la consegna di uno studio di fattibilità a costo zero, consegnata a distanza di quasi un anno, che prende le mosse dallo studio commissionato dalla Regione Campania nel 2006. Il Comitato comunque non si arrende a rilancia. Consulteremo un ingegnere specializzato in trasporti e infrastrutture per una consulenza. Non vogliamo contestare a priori, abbiamo chiesto l'accesso agli atti per avere lo studio pagina per pagina, cercheremo di tirar fuori le cifre e gli interventi necessari al primo tratto fino a Polla, afferma così il Presidente.